allora buongiorno a tutti buongiorno a tutti quanti dunque vorrei precisare una cosa siccome io intervenni un po' di tempo fa non so credo qualche mese uno o due mesi fa su un video di un personaggio alquanto strano chiamato youtube anche io e io intervenni ovviamente non perché volevo discriminarlo oppure volevo prenderlo in giro o volevo chissà cosa avere notorietà perché comunque a me non è che più di tanto mi interessa sinceramente avere notorietà io ecco intervenni su un video di questo personaggio che stava mangiando 40 kinder fetta al latte più un pollo addirittura che lui diceva questo pollo rinforzante dove tutti commentavano il polletto rinforzante del nostro maestro youtube anche io allora io siccome notavo in questi commenti davvero tanta presa tanta presa proprio per il culo verso questo personaggio quindi questi ragazzi che lo incitavano prendendolo in giro ovviamente e soprattutto lo incitavano fregandosene appunto della sua salute perché ripeto purtroppo chi commenta anche al sottoscritto perché mi hanno commentato in maniera volgare e soprattutto in maniera proprio superficiale superficiale appunto come loro sono che persone che commentano così possono essere solamente superficiali diciamo commenti riferiti al sottoscritto e riferiti ovviamente a questo youtube o anche io loro hanno commentato dicendo lui può fare quello che vuole lui della sua vita è libero di fare ciò che vuole che cazzo ne sei tu tu che cazzo capisci non rompere il cazzo non capisci un cazzo vabbè insomma commenti di questo commenti di questo calibro quale io non ne ho risposto neanche uno perché se avessi risposto a un commento di quei 200 che mi sono arrivati probabilmente mi avrebbero bannato youtube mi avrebbero ovviamente bloccato e cancellato youtube perché poi io sono una persona che quando vedo la superficialità l'ignoranza e soprattutto la strafottenza di questi ragazzini che non fanno altro che prendere in giro le persone fregandosene appunto o della salute o di altro io poi mi imbestialisco e divendo proprio divendo cattivo divendo quello che comunque non mi piace essere ossia cattivo e soprattutto realistico quindi per concludere io vorrei dire a tutti questi grandi fenomeni alla tastiera questi personaggi che sotto il video di youtube anche io al mio commento hanno sparato a 3000 sul sottoscritto io vorrei ricordare a queste persone che molto probabilmente loro non hanno mai fatto un giro all'interno di un ospedale non hanno molto probabilmente avuto a che fare con problematiche quali diabete quali l'ipertensione quali problemi cardiaci quali l'obesità appunto che può l'obesità porta a questo le conseguenze dell'obesità porta a tutte queste patologie tra il cuore il diabete il colesterolo che tanto ha e possono venire anche tumori ovviamente tramite l'alimentazione però tutte queste persone probabilmente non hanno mai avuto a che fare con problematiche simili e non hanno avuto amici con problematiche simili altrimenti se si fossero fatti dei giri verso dei riparti ospedalieri avrebbero cambiato idea sia nel commentare al sottoscritto in un modo così becero stupido e superficiale e sia nel commentare nel favorire l'ingozzarsi di una persona alquanto ingenua che soprattutto molto probabilmente per dei soldi sta mettendo a repentaglio la sua vita e quindi la sua salute io non voglio litigare con nessuno però ho fatto questo video perché siccome vedo che si continua ancora dopo mesi a commentare sotto quel video al sottoscritto io vorrei far capire a tutti sti ragazzetti da due soldi o uno ma pure anche mezzo spicciolo mezzo euro che della propria vita è vero che uno ne può fare ciò che vuole però io sto parlando in terza persona non sto parlando io sto parlando soltanto ad un personaggio che probabilmente è un personaggio ingenuo ed è stuzzicato dalla massa nell'aumentare la sua ingenuità e quindi nel farsi male nel farsi sempre più male perché oggi ci siamo e domani no questa è una legge divina che vale per tutti però è anche giusto che molte volte si aiuti una persona che facendo in quel modo non fa altro che avvicinare un momento che poi sarà il momento di tutti noi il momento della morte però io credo perché una persona bisogna incitarla a morire perché una persona bisogna incitarla cioè è come se io stessi incitando una persona a suicidarsi io vedo una persona che gioca magari con le altezze gioca con l'equilibrio che cammina sempre su un filo e alla fine io lo incito nel camminare sempre di più su quel filo alla fine quando poi cade io comunque sono stato partecipe della sua disgrazia e perché voi dovete essere scusate partecipi della disgrazia di una persona che tutto ciò che lui fa porta la depressione porta a star male ma a voi piacerebbe star male avere la depressione e comportarvi in quel modo che una donna magari non vi vede perché giustamente in quello stato come fa una donna a vedervi cioè a voi sembra tutto normale cioè a voi quello sembra tutto normale e sembra normale rispondere a una persona che cerca di fare aprire gli occhi ad un Cristo io con Joe la voglio chiudere qua è solo una risposta a tutti questi grandi fenomeni della tastiera che non fanno altro che ridire su tutto ridire sul sottoscritto e ridire e prendere per il culo una persona con gravi difficoltà con questo va bene io vi saluto il prossimo che commenta avrà una mia bella risposta una mia bella risposta con questo vi saluto mi raccomando le persone vanno aiutate questo youtube anch'io va soltanto aiutato non aiutato a autodistruggersi va aiutato a cambiare vita a cambiare mentalità a cambiare fisonomia a cambiare tu mi ha aiutato proprio a cambiare dovrebbe fare dei video dove va a camminare forse è meglio per lui ed è meglio anche per voi così non gli rompete più il cazzo e non lo seguite più saluto a tutti saluto e un abbraccio saluto torrente